Politiche giovanili, il comune di Ponte Nelle Alpi vara il progetto Capacitandosi. Lo scopo è quello di favorire la partecipazione attiva dei giovani. Dai 14 ai 19 anni che abitano il territorio dell'Alto Bellunese, oltre a Ponte Nelle Alpi, parteciperanno anche altri 10 comuni che proporranno interventi educativi ai ragazzi. Si va dalle attività occupazionali a quelle di primo approccio al mondo del lavoro, passando per il volontariato, le attività formative e di prevenzione delle dipendenze, fino agli educatori di strada. Il progetto che si inserisce nella programmazione e l'intervento in materia di politiche giovanili della Regione Veneto. Lo scopo è proprio quello di favorire la partecipazione dei ragazzi e anche il partenariato dell'ULS 1 Dolomiti. Il finanziamento complessivo per svolgere la progettualità è di oltre 32 mila euro. Attraverso queste risorse i 10 comuni potranno proseguire, ampliare e ripensare dei progetti rivolti ai ragazzi, tra gli obiettivi la prevenzione del disagio giovanile, l'incoraggiamento allo scambio generazionale e la valorizzazione dei giovani all'interno delle comunità. Ogni comune penserà e attiverà degli interventi educativi, di attività occupazionale, avvicinamento al volontariato e anche attività di prevenzione. L'idea poi è quella di attivare un'attività che possa accomunare tutti i comuni attraverso dei laboratori creativi che sforceranno poi in una mostra itinerante in tutto appunto il territorio bellunese.